Un cordiale saluto gentili ascoltatori dallo Stadio Mappai di Legge Emilia, un cordiale saluto da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri è pronto a raccontarvi questo anticipo valevole. Per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, Sassuolo-Juventus, due squadre che hanno avuto un andamento sicuramente opposto, diametralmente opposto nell'ultima giornata di campionato, la sconfitta fuori casa dei padroni del Sassuolo, dei Neroverdi, sulla terreno del Flosinone che ha vinto il rimonta per 4-2 dopo la doppietta di Milamonti, la vittoria corroborante invece convincente della Juve a spese della Lazio di Sarri per 3-1. Pallone verso Chiesa dalla posizione di mezzo destro, Largo attende e riceve McKennie, lo statunitense dall'area di fondo, un dribbling e una stersata, fa fuori l'avversario, poi la spera per Rabiot che va da 18 metri della conclusione, il pallone che finisce di pochissimo a lato, nulla di fatto. Siamo al dodicesimo nel corso del primo tempo, Reggio Emilia ancora 0-0 tra Sassuolo e Juventus, Reggio Emilia ha ripreso a piovere in maniera leggera, molto fitta il tentativo di testa che viene frustrato poi, la conclusione è la rete, la rete di Lorentè, esattamente al minuto 12 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Reggio Emilia, ha segnato il Sassuolo, Lorentè con una conclusione improvvisa, pulminia, dal limite dell'area di rigore anche se molto è centrata a sinistro, interno destro, Chiesa con una saponetta al posto dei guantoni si è lasciato sfuggire, il pallone che poi è carambolato alle sue spalle, si è depositato in porta, cambia il parziale a Reggio Emilia al dodicesimo, è in vantaggio il Sassuolo per 1-0, la rete di Lorentè. Più 3 per la Virtus Balogna, 8 minuti, ha pareggiato la Juventus, esattamente al minuto 21 nel corso del primo tempo ha pareggiato la Juventus, potrebbe trattarsi forse di un autorete, di un giocatore del Sassuolo, potrebbe essere stato Vigna che nel tentativo di intervenire su una cross di Chiesa, verso il palo opposto, quello destro, dove stazionava McKennie, ha spinto forse il pallone nella sua porta, vi saremo più precisi nel prossimo collegamento, per il momento vi confermiamo che è cambiato il parziale a Reggio Emilia, che è Sassuolo e Juventus, ora sono sull'1-1, la linea può tornare a Massimo Barchiesi. Grazie a Francesco Rebiccio. Evita il raddoppio della Sassuolo, è stato tre soldi a colpire sostanzialmente da pochi metri il pallone, l'aveva anche, dobbiamo dire, destinato in maniera abbastanza precisa e violenta, l'altezza del secondo palo, quello alla destra del portiere bianconero che è riuscito tuttavia con un guizzo a respingere, quindi ad evitare la seconda capitolazione della sua porta. Gatti sbaglia il lancio, Enrique ne approfitta, fa fuori Locatelli con un dribbling orientale, anzi si trattava di Miletti, va al limite, Berabi, sinistro! Oh! Il ragazzo di Calabria, Domenico Berardi, raddoppia per il Sassuolo all'altezza del 41esimo minuto, cambia ancora il parziale a Reggio Emilia. Berardi ha raddoppiato per il Sassuolo, splendido. Il gol del numero 10, Nero Verde, con il sinistro, vedendo incontro al pallone, all'altezza del limite dell'area di vigore, cercando e trovando il palo più lontano, lì dove Chesde non poteva arrivare. Ed infatti, non c'è arrivato, ed infatti. Ora il Sassuolo, quando siamo giunti al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, conduce per 2 a 1 sulla Juventus, ha raddoppiato Domenico Berardi. L'aveva detto Massimiliano Allegri dalla vigilia di questa partita, attenzione, sarà una partita complicata. E lo dimostrano i fatti, visto che il Sassuolo conduce per 2 a 1 sulla Juve, è stato Domenico Berardi, ha messo a rassegno un gollo, dobbiamo dire, molto bello, anche se la Juve deve un po' criticare se stessa. Per aver perso un pallone nella zona evralgica del campo, al ridosso della sua area di vigore, in un tentativo di palleggio mal riuscito. E quindi pallone stesso che Enrique ha messo bene in mezzo, dobbiamo dire, per Berardi dopo aver saltato Miretti con un dribbling, a rientrare. E poi il sinistro del numero 10, del ragazzo di Calabria che non ha lasciato scampo a voi a Ceccesni. Vediamo chi parte, il fischio dell'arbitro, si posiziona Vlaovic, si posiziona anche Chiesa, parte la sua rincorsa, il tiro raso terra. Pallone che filtra, ma finisce a lato rispetto al montante destro della porta difesa da Cragno. Non c'era il coccodrillo, altrimenti sarebbe stato facile per lui andare a respingere questo pallone. E invece si è alzata la barriera del Sassuolo, immaginando la traiettoria e la parabola alta sulla barriera stessa del giocatore della Juve, che è andato con il raso terra, pallone che però è andato a lato e quindi nulla di fatto. Leggio Emilia, Sassuolo, Juve. Fase funambolica della partita perché si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità nel periodo non collegato. Il solito errore difensivo di Vigna che si fa scivolare il pallone alle spalle con Iling, che può crossarlo comodamente in mezzo per Vlaovic, ma sbaglia il suo traversone, recupera la difesa del Sassuolo. Vairami in campo aperto, a destra Berardi invitante il pallone nel cuore dell'area di rigore. Tutto solo, Lorente riesce a spedire alto sulla traversa, probabilmente graziato. Lo diciamo tra virgolette dal direttore di gara che sollecitato dal primo assistente comando calcio di punizione per la Juventus, per una posizione di fuori gioco dello stesso Lorente. Ma insomma direi che l'assetto tecnico della partita lascia abbastanza desiderare e soprattutto per quello che riguarda la Juventus e per quello che riguarda i suoi centrocampisti che non riescono a tenere il pallone a terra né nel fraseggio corto né nel lancio lungo. Chiesa che fa viaggiare Rabiot dalla parte opposta, c'è Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic sinistro e pallone fuori. Azione molto bella questa volta in linea della Juventus, pallone per il Serbo che in area di rigore da sinistra sul suo piede d'elezione ha chiuso troppo con il collo interno piede e ha mandato la sfera a lambire il palo alla sinistra di Cragno che si era visto abbattuto ma che è stato appunto graziato dall'errore dell'avversario. John Smith che andrà in lunetta, ora si sta correndo tantissimo in capo. 66 Bologna. Ha pareggiato la Juventus, Federico Chiesa al 33esio minuto nel corso del secondo tempo cambia ancora il parziale al MAPEI Stadium. Chiesa con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, molto potente, molto precisa, nulla da fare questa volta per il Cragno dopo che il Sassuolo aveva sprecato un paio di contropiede assolutamente positivi per la sua squadra ma ripetiamo chi sbaglia poi paga e alla fine Federico Chiesa ha fatto pagare il conto al Sassuolo ed ora il parziale nuovamente è cambiato, Sassuolo e Juventus sono sul parziale di 2-2 e manca ancora tanto alla fine della partita. Barchiesi. Nuovamente a Reggio Emilia. Con la Juventus che ha raggiunto quindi la rete del pareggio con Federico Chiesa all'altezza del 32esimo minuto, una Juventus che sembrava veramente a un certo momento in balia dell'avversario con i contropiede del Sassuolo in particolare nel periodo collegato uno sull'asse di silista Tallorente e Vigna che doveva semplicemente appoggiare il pallone in mezzo per Pinamonti da solo a pochi metri della porta difesa da Scesdi è riuscito invece a sbagliare la traiettoria della sua traversone la Juventus quindi ha raggiunto il gol della Pari, siamo 2-2. Possesso per Milano che ha la possibilità di portazione a Calabria. Anzi chiediamo scusa, non si tratta di Berardi ma è stato Pinamonti a portare a tre le reti del Sassuolo sulla conclusione di Larentè una respinta in precaria coordinazione di Voyacek Chiesni è arrivato Pinamonti in tappin di testa ha depositato il pallone alle spalle del portiere della Juventus e cambia ancora il parziale a Reggio Emilia ora il Sassuolo conduce nuovamente ma per 3-2 dopo aver raggiunto il pareggio alla Juventus si è fatta nuovamente sorpassare da questa offensiva della formazione allenata da Dionisi questa volta l'Oriente si muove bene i danni dell'avversario e va praticamente al limite dell'aria a calciare con il destro un fendente molto violento che in precaria coordinazione ripetiamo riesce sia a respingere ma con una sola mano Voyacek Chiesni arriva Pinamonti di testa e spedisce alle spalle del portiere Bianconero 38 minuti sul cronometro cambia ancora il parziale a Reggio Emilia con il Sassuolo che conduce sulla Juventus ora per 3-2 calcio di punizione fuori della Juve Fagioli in area di rigore direttamente pallone rinviato da Ferrari arriva Chiesa alla destra in area parte il destro ce l'ha respinta ad opera di Cragno che libera la sua area di rigore anche grazie all'aiuto dello stesso Ferrari che spedisce la sua area in farola c'è Ferrari che può uscire dalla sua area di rigore vince un ripallo Pedersen che si può andare dalla cosia di sinistra in controviedere il Sassuolo Pedersen si allunga il pallone in velocità con Danilo improvvisamente fa salire la sua squadra serve centralmente Castiego che avanza a palla al piede sta avanzando anche De Frelli c'è Enrique Enrique al limite De Frelli in area di rigore con il sinistro si libera destro palla in rete no pallone che rimbalza sulla faccia interna della traversa e poi va fuori quindi dalla linea di porta calcio d'angolo in favore del Sassuolo che ha sfiorato la rete delle 4-2 49 i minuti sul cronometro si andrà avanti fino al 51esimo per effetto dei 6 di recupero concessi al direttore di gare il signor Andrea Colombo della sezione di Com avevano gridato alla gol tutti i giocatori del Sassuolo così come i tifusi del Sassuolo così come la panchina del Sassuolo con Dionisi pallone che ha sbattuto sulla faccia interna della traversa Ascesni battuto però è rimbalzato all'interno del campo e non al di là della linea fatidica della colla sapere insieme il cinquantesimo Sassuolo che conduce per 3-2 solo Ivetto se lì ancora Massimo Barchiesi la Virtus Bologna è la prima finalista della Supercoppa italiana appena terminata la gara contro Clamoroso clamoroso autogol clamoroso autogol della Juventus clamoroso autogol di Gatti che chiude la partita incredibile quello che è successo pallone rimesso in area di rigore fuori dall'area di rigore dal fondo da Scesni che è rimasto però fuori dalla porta Gatti gliel'ha restituito non si era accorto che Scesni era fuori ha depositato nella sua porta il Sassuolo avanti per 4-2 la partita praticamente finisce qua cinquantesimo a Reggio Emile il Sassuolo che conduce sull'Eventus per 4-2 incredibile la quarta rete dei padroni di casa che l'avevano sfiorata pochi istanti prima per la verità con una traversa clamorosa interna colta da De Frel la rimessa dal fondo in fuori della Juve dopo il calcio d'angolo Scesni che la dà fuori dall'area di rigore per Gatti a largo diciamo così della sua porta sul settore di sinistra e pallone che è andato lentamente ma inesorabilmente in porta Sassuolo che conduce per 4-2 partita che è finita sostanzialmente adesso siamo al cinquantunesimo e dieci secondi probabilmente l'arbitro ha concesso trenta secondi in più di extra time ma è sicuramente un trionfo quello della formazione di casa che la vittoria l'ha però altrettanto assolutamente meritata per quello che ha fatto vedere nel corso della partita nel corso della sfida è stata più precisa più ficcante più determinata sicuramente con grande carattere dopo aver subito il gol del pareggio del 2-2 nel secondo tempo a metà ripresa mancava ancora tanto circa 20 minuti alla fine della partita con Federico Chiesi è andato immediatamente a mettere in porta il pallone del 3-2 con Pinamonti terza rete in due partite dopo la doppietta Frosinone purtroppo per lui che non è servita a nulla perché il Frosinone aveva battuto 4-2 e rimonta proprio il Sassuolo adesso il Sassuolo con l'identico punteggio sta superando la Juventus dopo una partita ripetiamo che nel primo tempo si era conclusa in favore dei Neroverdi a 1 con le reti di Oriente dopo la topica di Scesni l'autorete di Vigna il gol splendido di Berardi nella ripresa il pareggio ad opera di Federico Chiesa poi è arrivato il 3-2 di Pinamonti e poi è arrivata l'incredibile autorete questa volta di Gatti che è depositato nella sua porta quando Scesni era lontano all'interno dell'area di rigore l'arbitro in questo momento sta guardando il cronometro si continua a giocare il pallone che danza all'altezza della tre quarti di campo della Juve con Berardi un gioco di prestigio viene fermato ed Arabio ecco piuttosto da sottolineare la prova paga delle francesi che quest'oggi avrebbe dovuto prendere in mano la sua linea mediana una linea mediana abbastanza inesperta tutto sommato ci sono dei ragazzi come Miretti come Fagioli è finita qui il Sassuolo ha battuto la Juventus per 4 a 2 vi abbiamo già detto della successione delle reti e questa la prima sconfitta della Juventus in campionato battuta dal resto abbastanza pesante per i bianconeri di Massimiliano Allegri grande reazione invece del Sassuolo dopo la sconfitta con il medesimo risultato per 4 a 2 a Brosinone a me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Andrea Neri Francesco Repice Neri Badilvi che in questo anticipo della quinta giornata di campionato a Reggio Emilia il Sassuolo ha battuto la Juventus per 4 a 2 restituisce la linea agli studi di Roma augurando a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata